U-Universi? No, veramente... Non sto capendo, veramente... Che cosa intendi per... Universi? Bene, allora visto che ti credi così forte, grosso e potente, fammi vedere un po' di cosa sei capace di fare, mostrami un po'. Vabbè, effendo vedo che te la capi molto molto bene, ma vediamo un po' se riuscirai a battere questo adesso. Uh, ok, ah, perfetto, quattro notebook collezionati, ne mancano solo tre, mamma mia, oh, non pensavo fosse così difficile, porca puttana. Io mi chiedo ancora in continuazione come sono finito in questo posto, eh? Ehm, non lo so, frase, dimmelo tu, veramente, sono un po' confuso. Sonic, ma tu per caso sei con me che sono finito qua? No, perché, veramente... Ne sei qualcosa tu per caso? Tutta sta luce mi si è iniziata ad accecare, veramente, non ce la faccio più, non me lo ricordavo così illuminato il luogo di Poppy Playtime, veramente, non me lo ricordavo proprio. E adesso aspettiamo altre 3.000 ore per giocare. Ciao! 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 No me!